Il coro lirico italiano esegue la prima missa Pontificalis di Lorenzo Perosi nella sala accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma, sotto la direzione del maestro Monsignor Valentino Miserax e con accompagnamento all'organo del maestro Juan Paradel. La presente registrazione, realizzata nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, risente dei limiti che questa condizione comporta, ma grazie alla curata e valente direzione del maestro Miserax è stato possibile tuttavia eseguire questo repertorio a fatto semplice e altresì conosciuto anche oltre i confini nazionali, come molte altre opere importanti del maestro Lorenzo Perosi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.